23 novembre 2021 Gesù vive in noi fino alla fine del mondo dal Vangelo secondo Luca capitolo 21 in quel tempo mentre alcuni parlavano del tempio e che l'ho ornato di belle pietre e di doni votivi Gesù disse verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta gli domandarono maestro quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere rispose badate di non lasciarvi ingannare molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino non andate dietro a loro quando sentirete di guerre e di rivoluzioni non vi terrorizzate perché prima devono avvenire queste cose ma non è subito alla fine poi diceva loro si solleverà nazione contro nazione regno contro regno e vi saranno in diversi luoghi terremoti carestie e pestilenze vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo la profezia della distruzione del tempio di gerusalemme è associata con un'immediatezza all'evento del ritorno di cristo preceduto da guerre tra le nazioni evoluzioni insieme a terremoti carestie e pestilenze con dimensione mondiale l'idea che non senza difficoltà possiamo trarre è quella che l'evento storico della distruzione di gerusalemme sia da considerare come l'inizio di una serie di eventi con la medesima marca dell'aggressione alla città santa infatti la motivazione che sta dietro alla catastrofe di gerusalemme è il peccato della uccisione del suo cristo gesù piange sul destino della città rimproverando l'insensata ostinazione durezza di cuore del suo popolo gerusalemme gerusalemme che uccidi profeti e lapidi quelli che ti sono inviati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie pulcini sotto le ali e voi non avete voluto così anziché considerare gli eventi catastrofici accumulati in un unico tempo siamo invitati a considerarli come distesi nel tempo l'inizio è già accaduto con gerusalemme gli altri eventi che si susseguono sono infatti conseguenza di un progressivo ma intenso rifiuto della fede in cristo con la persecuzione di chi invece ha mantenuto la fede infatti gesù stesso dicendo che al suo ritorno non la fede invita a considerare la storia della chiesa nel tempo che si intreccia con quella dell'umanità in modo non trionfalistico come è stato visto o immaginato ovvero un progressivo espandersi della fede in tutto il mondo fino a creare una società cristiana condivisa in massima parte perlomeno nei valori essenziali assistiamo invece con sempre maggiore evidenza alla rapida disgregazione anche di quello che fu solida cultura cristiana universalmente condivisa come nel mondo occidentale è sotto i nostri occhi il veloce sfaldamento dei tessuti di fede con numeri di fedeli ridotti al minimo e con prospettive di cultura anticristiana verso l'intolleranza e l'avversione gesù dunque aveva avvertito che la storia della chiesa non sarebbe andata verso il trionfo della fede sulla terra ma nella sua scomparsa le generazioni che più si allontanano nel tempo dalla sua prima venuta sono quelle che meno credono al suo ritorno alla sua potenza e dalla sua signoria i venti catastrofici dunque si inseriscono in un contesto di fede simile a quella che fu di gerusalemme al tempo di cristo una versione contro di lui rovesciata contro i suoi fedeli come gerusalemme fu lasciata tristemente in mano ai suoi nemici così anche la chiesa agonizzante per mancanza di fede di carità si ritrova indebolita davanti al mondo stile come al tempo di gerusalemme i disastri si associeranno purificare un'umanità in bestialità ed in cattività il ritorno di cristo invece sarà successivo e non sarà quello che eviterà tani catastrofi ma triunferà su di essi in seguito quando con la sua potenza verrà per manifestare simultaneamente ad ogni uomo la sua gloria separando a chi lo ama da chi lo rifiuta da chi ha amato il prossimo da chi invece lo avrà abbandonato dunque nessuno deve seguire i falsi messia nel momento della purificazione perché sanno sono ingannatori che approfittano della tribolazione e dell'angoscia chi invece mantiene la presenza del cristo vivo nel cuore in qualsiasi prova costui sarà vittoriosa e non avrà paura di nulla perché Gesù è con noi fino alla fine del mondo l'unione con Gesù si costruisce nella quotidianità vissuta nella fede e nell'amore per lui che si riversa sul prossimo quest'amore esercitato è fonte stessa di fortezza e di pace interiore mentre chi appartiene allo spirito del mondo sarà agitato violento o impaurito facile preda di improvvisati messia umani di salvatori della situazione illusi o approfittatori che siano non si improvvisa la fede non avviene la salvezza da fuori ma da dentro di noi poiché Cristo vive in noi Dio vi benedica